Anticipazioni tempesta d'amore. Trama puntate. Domenica 26 dicembre 2021. Max si rende conto di amare Vanessa. Proprio mentre sta pensando a come confessarle il suo amore, vede la ragazza di George uscire insieme da un romantico rifugio. Eric e Ryan passano tutto il tempo insieme cercando di non pensare al domani. A colazione la Dark Lady ha uno svenimento davanti a Christoph e Selina. La Kallenberg cerca di insabbiare la situazione ma Selina capisce tutto. Per ottenere più follower maschili, Shirin convince Florian a partecipare al suo vlog. Per fare questo deve sottoporsi a una diretta. Il Vogue accetta ma le chiede qualcosa in cambio. Alphonse e Hildegard cercano di allontanare le preoccupazioni di Cornelia riguardo all'interesse di Robert e Eva. Per calmarla ulteriormente il zombie Claire consiglia a Robert di fare tutto il possibile affinché la donna si senta a proprio e la donna si senta a fare tutto il mio video. A casa!